Salve a tutti da parte mia, da parte di Paolo Minucci, puntata davvero speciale del nostro appuntamento a tavola dove siete abituati a seguirci con il maestro Sergio Rendine, un'icona della musica, un grande personaggio del mondo dell'arte, oggi con noi per parlare di una sua grande esperienza di vita. Un'esperienza di vita che lo ha visto per anni a diretto contatto con padre Pio, il santo di Pietrelcina che è ormai conosciuto in tutto il mondo e che noi adoriamo in tutti i sensi. Abbiamo la fortuna, l'onore di avere qui con noi, davanti a noi, le reliquie del santo di Pietrelcina che verremo di qui a poco a spiegare perché sono qui e perché le ha proprio il maestro Sergio Rendine. Intanto lo saluto cordialmente, lo vedo in forma, grazie per aver accettato il nostro invito. Il nostro regista Marco Corneli provvede ad inquadrare tutte le reliquie, ci facciamo anche il segno della croce, come è giusto che sia, maestro Sergio Rendine. Ecco, intanto di cosa si tratta, mentre noi continuiamo ad ammirarle in grande considerazione, con grande attenzione? Beh, Paolo, devo fare una premessa. Io ho avuto, tra le tante fortune della mia vita, questa forse la più grande, quella di aver passato nove anni a diretto contatto con San Pio da Pietrelcina. Perché? Perché i miei genitori di Napoli, mio padre Fuoriorendine, l'autore di canzoni famoso, mia madre Anna Papaccio, figlia di un grande tenore napoletano, erano, per ragioni complesse, mio padre ebbe un incidente di macchina e poi guarì, insomma. E diventarono figli spirituali di padre Pio e vollero che io facessi la prima comunione da padre Pio. Avevo sei anni, allora la prima comunione si faceva a quell'età, avevo sei anni e andammo per la prima volta da padre Pio. Qui, questa prima volta... Ecco, ci racconti anche il primo incontro con padre Pio. Perché è una cosa abbastanza complessa. Come no? Perché nel primo incontro con padre Pio avvenne già un miracolo, subito. Addirittura. Sì. Allora, te lo racconto. Sì. Arrivammo dopo un viaggio, allora mica c'erano le autostrade, si passava per Ariano Irpino, Curveco e mi ricordo che piccolino vomitai. Oh, a proposito, parentesi. Io ricordo ogni istante di quello che ti sto raccontando come se l'avessi vissuto ieri sera. Questa è già una cosa abbastanza prodigiosa perché proprio lo ricordo perfettamente. Anche perché sono passati tanti anni. Ricordiamo che Francesco Forgione è morto nel 1968. 68, 52 anni fa. Più di mezzo secolo. E questo avveniva nel 59, quello che ti sto raccontando. Quindi 61 anni fa. Arriviamo a San Giovanni Rotondo, era il tramonto. Non c'era nessuno, allora non è che funzionava come adesso. Faceva freddo. E ci fermavamo proprio sotto il sagrato della chiesa nuova, non quella nuova da adesso, la nuova da allora, quella più grande che sta accanto alla chiesetta. Mio padre disse, cerchiamo un albergo, perché tanto qui domani se ne parla. Ma in quel momento si accesero delle lucine, delle lucine intorno alla chiesa. Disse, allora stanno facendo le prove di una festa, i frati sono ancora svegli. Andiamo, allora tutti imbacuccati, io mio padre e mia madre, le sorelle non ce le avevo ancora, ero piccolino, sei anni. Andiamo e suoniamo al convento, ma non suoniamo col campanello, suoniamo con la campanella. Perché si tirava la campanella, di din, di din. Tanto è vero che io ho voluto, nella mia messa di beatificazione per Padre Pio, che è stata fatta in Sala Nervi, che è stata la messa ufficiale per la beatificazione, ho voluto cominciare la messa con questo suono di campanella, perché la mia storia comincia con questo suono di campanella. Dopo vari tentativi, quando stavamo per cedere, venne a aprire un fratacchione nano, un bello rubicondo, no? Che volete? A quest'ora non si disturbano i frati, no? Dice, noi siamo amici di Padre Onorato. Padre Onorato era l'assistente di Padre Pio, quello che lo curava in tutto e per tutto. E siamo amici, veniamo da Napoli, volevamo salutare Padre Onorato. Non si può, per favore, va dita a Padre Onorato. Insomma, mio padre, che aveva una grande capacità di dialettica, di convinzione. Di persuasione. Di persuasione, convince il fratacchione, che è tutto nervoso, se ne va. E dopo pochi minuti scende Padre Onorato. C'è Furio, ah che bello siete venuti, signora, il bambino, quanto è bello. Solite cose. Soliti rituali. Soliti rituali. Allora mio padre dice, senti, il bambino vorrebbe vedere dove sta Padre Pio. Eh, ma Furio. Io che dentro di me dicevo, ma io non voglio vedere nessuno, anzi a me mette pure paura. Cioè, vedi, in questo ambiente quasi oscuro, con delle lucette. No, ma il bambino ci tiene. Io lo guardavo a papà, non mi permetteva di dire niente, però guardavo a papà dicendo, ma sei scemo, io voglio andare a casa. No? Allora, vabbè, guarda, il massimo che ti posso fare, e ti faccio vedere dove c'è la cella. Allora saliamo, piano piano, piano piano, in questo posto oscuro dove si sentiva, io ti dico i dettagli perché per me sono importanti. Dove si sentiva una goccia d'acqua che perdeva, ploc, 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 e questa cosa mi è rimasta nel cuore, no? E salivo, 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 queste scale, di questo ambiente oscuro dove c'era una madonnina con lumino, non c'era una paura, caro Paolo, dico, mamma mia, dove stiamo andando. Però tenevo la mano di papà, saliamo, arriviamo al primo piano, e in corridoio con delle cellette piccole, c'era una cella da dove traspariva un filino di luce, no? Dice, quella là c'è padre Pio che sta pregando, sta scrivendo. Uh, dai, dai, dice mio padre, padre Lora, vedi se ci può ricevere. No, ma padre Pio a quest'ora, no, 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 ti prego, dai, persuasione. Padre Lora, tu entra, noi ci mettiamo vicino alla porta, e io sento questa voce, proprio, tutti. Falle trasit, 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 che in napoletano vuol dire entrate. E allora, io dentro di me dico, mannaggia la miseria, e entriamo e mi vedo per la prima volta, padre Pio, che aveva una sciarpa in testa, ed era, ti dico l'immagine, era bianco più di una statua di marmo. La barba bianca, la pelle bianca, e due occhi che ti arrivavano diritti dentro l'anima. Ti guardava così, con questi due occhi che erano due lance. Questa è stata la mia prima emozione. Allora ci avviciniamo, mio padre portava, era zoppo per l'incidente di macchina che aveva avuto, di cui avevo detto prima, e aveva una gamba più corta di 5 centimetri, aveva avuto una frattura da scoppio al femore in 8 parti, e il ginocchio anch'io lo sato, quindi non la poteva piegare. Si avvicina col bastone e ti dico un dettaglio che ha importanza. Il bastone era di quelli antichi che avevano la testa di cane, sai, scolpita di amorio. Allora, mio padre zoppo così, io, attaccato ai pantaloni di mio padre, trasita, trasita, ah, dice questo padre spirituale, perché padre Pio tutti lo chiamavano padre spirituale, padre spirituale, questo è un mio amico che è venuto da Napoli, con Vincirilla, con il bambino, la moglie è rimasta sotto, è una clausura ovviamente, la moglie è rimasta sotto, sono venuti a trovare, volevano salutare. Mi guarda, mi mette una mano col guanto in testa e fa, è bello guaglione, bel ragazzo, o musica. Allora padre l'onorato dice, no, è il papà che fa le canzoni. Lui mi riguarda, mi mette la mano in testa e dice, o musica, o musica. Predicendo? Cioè proprio mi, bam, in quel momento in là è cominciata la mia tragedia, perché ho dovuto fare questo difficilissimo, soprattutto oggi, che è impossibile, mestiere. E ho fatto il musicista. Vabbè, comunque, questo è un dettaglio. La cosa più importante è che padre Pio dice, padre siamo venuti per ringraziarvi del miracolo della mia vita, perché io sono riuscito a... Padre Pio si infuria e fa, ok, tu devi ringraziare il Signore, non me, io chi sono, io non sono nessuno, tu devi ringraziare Dio che ti ha salvato. Poi si placa, di botto, e fa, vabbè, va, figlio mi chissà quanto hai sofferto, adnucchiati. Scusate, parlo nel suo linguaggio, spero che si capisca, adnucchiati e inginocchiati. Poi se non lo capiscono... Come no? Poi traduciamo. No, ma a quelli di Milano, poi, a noi, adnucchiati. Mio padre si inginocchia, io pure, ci fa la benedizione, ci mette le mani in testa, poi si alza e poi dice a mio padre, e che re che la capo decana, che era il bastone? C'è sempre il demonio. Iete che la capo decana, butta quella testa di cane, iete che la capo decana, ah, per carità, brutto, brutto. Padre io cado, ha geletto iete che la capo decana, perché lui ogni tanto aveva questo... E mio padre è tutto un po' così, anzi, stava pure un po' disponendosi per il modo brusco. Da padre onorato questa cosa, padre onorato gli dice, non lo contraddire, grazie padre, grazie padre, indietro e ce ne andiamo. Allora e ce ne andiamo per il corridoio. E mio padre mi fa, hai visto, ti ho fatto vedere padre Pio, io sempre dentro di me, grazie, a me non mi serviva, cioè avevo paura, però ero più rasserenato. E indietro padre onorato che diceva, ma Furio, mio padre si chiamava Furio, ti rendi conto, ti rendi conto, ma dico, ma sì grazie, è una cosa speciale, ma no, tu non ti rendi conto, no padre, mi rendo conto che è una cosa speciale, no, tu non ti rendi conto, Furio, che tu, uno, ti sei inginocchiato e c'avevi il ginocchio anchilosato e non lo potevi piegare, due, stai camminando senza bastone, mio padre si guarda e quasi gli esce una bestemmia, poverino, oh mannaccio, e comincia a correre per tutte le scale, io sono rimasto, sono rimasto con la mano di padre onorato, correre per le scale, ma io corro, io corro, quando mia madre l'ha visto uscire dalla porticina della clausura, è rimasta così, è scoppiata a piangere, si sono abbracciati, noi siamo arrivati, esatto, e mio padre che faceva, guarda, guarda, salto, salto, miracolo, il giorno dopo, mio padre che era cocciuto come me, aveva, va alla casa sull'io della sofferenza, che era stata già inaugurata, e chiede della radiologia, vuole farsi fare una lastra alla gamba, caso che non esiste, ha voluto che lui nella bagagliaio della macchina, avesse le lastre fatte 15 giorni prima, se le porta, gli fanno la lastra, esce fuori la lastra, che allora mica era come adesso, l'ultimo ha chiamato cose grossissime, esce fuori la lastra, e il femore era quello di un signore sano, senza neanche un segno di rimarginamento, l'altra precedente, diceva questo, diceva il radiologo, questa è un'altra persona, qua c'ha 8 punti di callo osseo, questo no, questo è un femore integro, dice no, questa è questo, e dice, e com'è possibile, il radiologo, che era uno con un pizzetto, gli disse a mio padre, lei è la prima volta che viene da madre mia, sì, no, perché noi di queste cose ne vediamo 10 al giorno, si preoccupi, ringrazio il signore, miracolo, davvero, commovente, ma ti posso dire ancora un'ultima cosa, che quando mi è toccata la terribile, il terribile compito, di riesumare mio padre, io il primo pensiero è stato andare a vedere i femori, identici, due femori intatti, questa è la mia testimonianza giurata, sulla cosa sulla quale io sono stato testimone opulare, nonostante avessi 6 anni. Davvero una testimonianza commovente, noi maestro Rendine, noi che operiamo nel settore dell'informazione, la conosciamo per tutto quello che ha dato, nel corso degli anni come grande musicista, compositore, lei che ha davvero calcato i palcoscenici più prestigiosi a livello internazionale, però dobbiamo anche sapere che lei è una persona fortunata, perché l'incontro con padre Pio non è stato l'unico che ha contraddistinto la sua vita, ci risulta che lei ha frequentato e ha avuto contatti anche con altri santi, Sì, è vero? Ho una fortuna nella vita veramente straordinaria, che per esempio mi commissionò il Vaticano, commissionò vuol dire, attenzione, per il Vaticano vuol dire un incarico, perché il Vaticano non paga, quindi commissionò volontariamente, mi commissionò una cantata per il ventennale di Giovanni Paolo II, io feci questa cosa, ho fatto in Sala Nervi, in Mondo Visione, andò tutto benissimo, e Sua Santità San Giovanni Paolo II mi invitò a pranzo, e io a mezzogiorno mi trovai a pranzo con Giovanni Paolo II, lui e il suo segretario, Papa Voitila, Papa Voitila, io ti dico Paolo, se ti dicessi che ho parlato con Giovanni Paolo II, ti direi una bugia, perché ogni parola mi si stringeva la gola, mi trovavo di fronte a un personaggio altrettanto carismatico come padre e figlio, e lui è stato cordialissimo, mi ha raccontato anche una barzelletta che un Papa non avrebbe dovuto raccontare, e quindi siamo stati fantasticamente, ho avuto questa grande grazia di essere benedetto, di stare a pranzo con Giovanni Paolo II. Poi ho conosciuto la Beata Madre Speranza, sulla quale, quella di Colle Valenza, dove la mia famiglia andava spesso, e lei mi diceva sempre Piccirillo fa un bravo, Piccirillo fa un bravo, lei faceva Picciddo, non so perché, una strana lingua, fa il bravo, Picciddo mi diceva. Poi ho conosciuto, per chi conosce il venerabile Don Dolindo Ruotolo, che adesso sarà fatto beato, che era un sacerdote di Napoli, e che scriveva sotto dettatura divina sulle immaginette, ho parecchie immaginette scritte da lui, dedicate a me. Poi ho conosciuto Padre Pio delle Piane, un altro venerabile, che era un sacerdote di San Francesco di Piazza, Paola, che adesso anche lui è per la beatificazione. Poi ho conosciuto Fra Daniele Natale, Fra Daniele Natale c'è una grande devozione intorno, anzi, Fra Daniele Natale ci sono dormito a casa, eravamo amichetti. Fra Daniele Natale, quel frate risorto da Padre Pio, due volte, di cui una sono stato testimone. Ecco, io poi ne vorrò parlare, perché è qualcosa di interessante, di cui si è parlato davvero poco, si è detto e si è scritto tanto di Padre Pio, ma di questo particolare davvero poco, perché addirittura Padre Pio è riuscito a far resuscitare. Due volte, una volta, io non mi ricordo se ero nato, ma la seconda volta c'eravamo con mio padre, credo fosse il 62, 61-62, e Padre Pio lui aveva un salottino, che ancora si vede, me l'hanno collocato nella parte opposta dove stava, stava sotto la finestra, un salottino di vimini, si vede ancora, e si vede ancora che c'è una seggiolina piccola che lui fece fare per me, perché io dovevo stare vicino a lui. Lì ci si intratteneva con qualche amico più intimo, mio padre, Carlo Campanini, il famoso attore che anche lui adesso sta in odore di santità, e qualche amico, qualche frate, così, in momenti di riposo faceva due chiacchiere, mentre si faceva due chiacchiere, arriva padre Pellegrino a dire padre Pio, padre spirituale, fra Daniele che doveva operarsi, purtroppo non ce l'ha fatta. In quel momento padre Pio scoppia a piangere, nello stupore di tutti, perché è un uomo di spirito, e comincia a fare, camminando, faceva così, avanti e indietro, perché, perché, perché mi hai fatto questo, perché mi hai fatto questo, e ce l'aveva col signore, dice signore, perché mi hai fatto sta cosa, perché questa cosa, perché non mi hai ascoltato, perché non mi hai ascoltato, perché, e piangeva, padre, non la prendete, perché questo frat Daniele era il suo pupillo, proprio dal suo, e improvvisamente dice, portatemi da lui, che lui stava al caso sollivo della sofferenza, però stava già nell'obitorio, allora tutti rimangono possibili, però padre, noi ci allontaniamo subito, e con Carlo Campanini, e mio padre, scappiamo, verso la casa, per precedere, padre Pio, e cercare di essere presenti, anche noi, alla preghiera di padre Pio, che poi, voglio dire, noi volevamo stare il più possibile, vicino a padre Pio, entriamo, andiamo all'obitorio, già avevano avvertito, che doveva venire padre Pio, avevano già tirato fuori, fra Daniele, sai, con l'ensuolo, nudo sotto, perché, con l'ensuolo, e già avevano messo anche le candele, e c'era, sa, Daniele è morto, e noi stavamo lì a pregare, tutto bianco, pure io piangevo, perché era un amichetto mio, fra Daniele, cioè, l'avevo conosciuto subito, appena arrivato, io c'erano, quanti anni aveva? Fra Daniele, se avrà avuto, quando è successa questa cosa, se avrà avuto, a meno di 40 anni, 37 anni, era un brutto male, io poi adesso ero piccolo, non ho capito bene, che di che cosa era stato operato, arriviamo, e c'era una specie di corridoio, sala d'attesa, una porta che entrava nella sala, in una sala, e poi dietro c'erano le celle, e fra Daniele stava in questa sala, ha messo lì, le sedie fronte, per ricevere il padre Pio, dopo un po', arriva il padre Pio con la macchina, perché non poteva camminare, arriva il padre Pio con la macchina, pioveva di rotto, con il cappuccio, dentro sotto braccio, e lo fanno accomodare, noi stavamo lì, ci alziamo, e padre Pio si mette là, con l'inginocchiatoio, e si rimette a fare, perché, 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 e noi tutti a piano, cioè era una scena straziante, era la mamma che vedeva il figlio morto, il padre che, cioè era una cosa straziante, a un certo punto, padre Pio fa, lasciatemi solo, e noi tutti, così, e ci, ritiriamo fuori a questa, questo corridoio, sana d'attesa, e c'era il padre onorato, che gli era rimasto vicino, no onorato, vai pure, onorato, va a tenne pure tu, e chiude la porta, passano due, tre minuti, quattro minuti, e stavamo lì, preghiera, così, ma è mio padre, che dice al padre, ma che sta succedendo, il padre si vuole raccogliere, delle preghiere sue, delle volte, vuole stare solo, aspettiamo, il padre onorato, aspettava una voce, per andarla a prendere, no, invece, vediamo la maniglia, che si apre, padre Pio in piedi, si era alzato da solo, con fradaniere, con lenzuolo, lui con la mano sulla spalla, lui, fradaniere vivo, in piedi, eh, ha chiesto, signore, mi ha fatta grazia, i frati buttati per terra, mio padre mezzo svenuto, io piccolino, con la bocca aperta così, chiamatemi un medico, portate a Daniele, fatelo vestire, che Cristo sta buono, ma che è, questi medici, questi medici, andiamo, 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 e noi siamo rimasti, così, poi l'hanno portato dentro, l'ha risuscitato, io poi, il frate Daniele, ero rinfrequentato, per altri, vent'anni, ma ricordo male, o la stampa non si occupò di questo fatto eclatante? La stampa, la prima volta che era successo questa cosa, fece qualche cenno, la seconda volta tacque completamente, non so se per volontà del convento, o se... Fu tenuta celata la notizia? O per volontà del Vaticano, non lo so perché. Però ormai, padre Pio faceva notizia, anche se muoveva magari una pietra, quindi, un fatto del genere, avrebbe fatto il giro del mondo? Noi, noi non fummo autorizzati a parlarne, nessuno fu autorizzato a parlarne, quindi, non so poi. Testimoni eravamo io, Carlo Campanini, mio padre, io, Carlo Campanini e mio padre, non sono più vivi, però c'erano padre Onorato, che non è vivo, padre Pellegrino, che non lo so se è vivo, e padre Eusebio, che mi risulta sia vivo. Mi vengono i brividi sulla schiena, maestro Sergio Rendine, ma non so per questa storia... Sapessi a me che c'ero. Mamma mia, mamma mia. Ma anche nel vedere, queste reliquie che ho sotto gli occhi, ecco, perché non le facciamo conoscere meglio? intanto diciamo un po' la storia di queste reliquie. Quando padre Pio morì, noi eravamo a San Giovanni Rotondo, perché c'era la festa per il cinquantesimo delle sue stimmate. Pochi minuti prima che morisse, arriva una telefonata in albergo, dove stavamo io e mio padre, padre Pio sta morendo, furio, corri, così lo vedi. Ci vestimmo di... era mio padre in lacrime, e corremmo di notte, erano le due di notte, corremmo al convento. Ci aprirono, perché stavano tutti attenti, non c'era nessuno, salimmo sopra, e c'erano tutti i frati fuori, e mio padre entrò nella cella. Io no. Io rimasti fuori con i frati amici. Quindi mio padre ha assistito al trapasso. Al trapasso. Io stavo là fuori. Aveva 81 anni. 81 anni. Però i frati amici, proprio nel momento, perché padre Pio poi fu portato su una porta, con uno stipide di porta, fu messo là sopra, e messo nella sala un po' più grande, perché sennò non c'era tutti i frati intorno, e fu messo composto lì. Però, gli fu fatta una spogliazione. Allora gli tolsero i guanti, e un guanto lo diedero a papà, che è quello che mi chiamava. Lo vediamo benissimo. Gli tolsero i calzini, la prima cosa che loro cercavano di vedere erano le stimmate, che io ho visto, quindi ne sono testimone oculare, e invece le mani di padre Pio erano come le mie, completamente prive di qualsiasi segno. Non aveva più niente. Le stimmate erano completamente scomparse, dai piedi e dalle mani. Il costato non lo so perché non l'ho visto. Allora, padre Onorato e padre Eusebio presero dei fazzoletti di padre Pio, dei pezzi di mutanda, addirittura tagliarono, il rosario che padre Pio aveva in mano nel momento in cui è morto, la croce che aveva, la croce della sua professione, che aveva sempre con sé nella sacca, che aveva in mano nel momento della morte, il reliquario che lui teneva nella mano sinistra quando benediceva, con tutte le riche dei santi, alcuni fazzoletti, un fazzoletto con l'umore del costato, e lo diedero velocemente a mio padre. Poi presero anche le immaginette che stavano sul comodino. Tra cui c'è qualcosa di particolare attivente. Tra cui, me ne sono accorto adesso, perché il mio amico fraterno Daniele me l'ha fatto notare, c'era la Madonna di Collecordino, cioè la Madonna di Casalbordino, che è anche di Collecordino, la Madonna dei Miracoli. Questo non lo sapevo e mi ha fatto molto piacere che padre Pio, già 52 anni fa, avesse questa devozione. E quindi ci siamo trovati in proprietà privata. Mio padre ha avuto questa cosa, poi mio padre è morto e l'ha lasciata a me. Ecco, che ricordi porta con sé del santo di Pietrelcina? Guardi, guarda, io... Qualche aneddoto, qualche... Guarda, io intanto... Perché ci risulta che era anche molto simpatico in vita. Raccontava addirittura Barzellette, padre Pio. Quando io stavo al convento, che era il periodo dalla fine della scuola all'inizio della scuola, quindi l'estate praticamente, la passavamo lì e io vivevo al convento, nella celletta accanto. Adesso hanno fatto diventare una cella unica due celle. Invece c'era una cella sola, piccolissima, che era la celletta dove stavo io, accanto alla cella di padre Pio. Quando io stavo lì al convento, lui voleva che io mi mettessi accanto a lui nel refettorio. Allora io... Forse allora sono diventato grasso, perché padre Pio praticamente non mangiava. Allora gli portavano... Lui amava molto la mozzarella di bufala. Allora gli portavano... Lui faceva con grande sforzo delle mani un pezzetto piccolo così. Uh, com'è buona! Poi la toglieva e me la dava a me. Il cran caramel era una cosa che gli piaceva tanto. con la punta del cucchiaino. Uh, com'è buono! E lo dava a me. Cioè lui per 50 anni non si è nutrito. Lui non ha mai mangiato. Non ha mai... Io non ho mai visto padre Pio che mangiasse un boccone intero. Mai. In nove anni che sono stato lì. Prima non lo so. L'hai tornato in sogno qualche volta? Sì, sì, quante volte. Eh, quante volte. E dicevo, la sua caratteristica era che... Beh, lui pregava sempre, quindi c'era poco spazio all'ilarità. Era sempre in collegamento con la passione di Gesù e con i santi, soprattutto la Madonna. Però quando aveva qualche momento di terra, questo è un episodio noto da cui sono stato presente io, poteva anche essere spiritoso, questo episodio noto è questo, che viene a dire che una giornalista di epoca, adesso non mi ricordo se fosse allora Margherita Hack, qualcuno di queste... Una giornalista di epoca aveva scritto che lui era un isterico e si era fatto uscire le stimmate con la forza del pensiero, pensando forte, forte alla passione di Gesù. Ne hanno dette di tutti i colori, va bene. E glielo dissero. Padre, padre Pellegrino, che si occupava della parte esterna, disse, padre, hanno scritto questa cosa... Noi pensavamo che padre Pellegrino diceva come aveva sempre fatto ad altre cose. Gli disse, no, padre Pellegrino, piglia carta e penna e rispondiamogli. Ah, rispondiamo. Infatti non era vero. Dice, scrivigli, cara signora, pensa forte, forte di essere un ubove, vedi se ti spuntano le corne. Simpaticissimo, simpaticissimo. Comunque, purtroppo, il tempo è tiranno. Facciamo così. Diamoci magari appuntamento tra qualche giorno per continuare questa bella avventura, per conoscere ancora meglio padre Pio, un personaggio che continua ad affascinare il mondo intero. Per il momento, grazie al maestro Sergio Rendine. Grazie per averci dato questa opportunità di ammirare le reliquie di padre Pio. Ne siamo onorati. Cosa che non faccio mai, lo sai. Grazie, grazie ancora. Salutiamo e ringraziamo il maestro Sergio Rendine. Ringraziamo tutti coloro che sono stati in nostra compagnia di iniziare dal presidente della provincia, Antonio Zaffiri, e naturalmente voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma, speriamo che possa essere interessante, come questa, come questa puntata, sarà rimandato alla prossima edizione. Ciao a tutti. Emozionati davanti alle reliquie di padre Pio con il sindaco di Colle Corvino, presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, con il maestro Sergio Rendine. Un momento molto importante. Sappiamo che lei è credente, è religioso, presidente. In questi momenti come si sente? Beh, l'emozione è tanta, tantissima, e sinceramente ho poche parole. Niente, è emozionante. Sapeva prima d'ora che il santo di Petralcina aveva sempre con sé l'immagine della Madonna di Colle Corvino, di Casalbordino, però, che aveva uno stretto legame con il suo paese? No, questo non lo sapevo. Infatti, quello che mi ha colpito ancora maggiormente, vedendo queste immaginette della Madonna di Casalbordino, che è poi la Madonna dei Miracoli, anche che a Colle Corvino, è la stessa, ancora di più. Quindi, è un'emozione particolare, perché a Colle Corvino siamo tutti devoti alla Madonna dei Miracoli, e quindi questo ci rende ancora più emozionati. Una bella giornata, impreziosita anche dalla conoscenza del maestro Sergio Rendine, un'icona in campo musicale, una persona che ha vergato dei momenti indelebili nella storia della musica italiana. Sì, ho avuto oggi l'onore di conoscerlo, avevo sentito parlare del maestro Rendine, ma non avevo mai avuto il piacere e l'onore di conoscerlo. Oggi l'ho conosciuto, è un personaggio da conoscere, ed oggi è stato ancora più emozionante, perché vedere queste reliquie conoscendo il maestro Rendine, mi ha fatto tanto piacere. È un onore averlo nella nostra provincia. Grazie a tutti.